Allora, ciao a tutti, ora con qualcuno di voi ci siamo già incrociati a qualche incontro e quindi mi scuso se magari sarò un po' ripetitiva in questa presentazione. In Epole lavoro al Comune di Rosignano Marittimo e in realtà fino a qualche mese fa mi occupavo di gestione del patrimonio immobiliare pubblico del Comune, mentre da qualche mese ho cambiato settore e mi occupo invece più di servizi alla persona, alle imprese, quindi cultura, sport, sociale, attività produttive, insomma varie unità organizzative e in realtà quindi la gestione del bilancio è una passione personale che quindi coltivo lontano dall'ufficio ragioneria. Finita diciamo questa brevissima presentazione, io ho fatto un po' una scaletta di argomenti, di punti che volevo toccare sul bilancio del Comune, soprattutto per dare un'idea appunto di questo documento, di questo strumento e come dire degli elementi di riflessione, spunti sia nell'ottica di una lettura del bilancio, sia nell'ottica magari anche di aspetti su cui poter attivare delle iniziative di lavoro sul bilancio nei vari territori quindi a cui appartenete, magari può essere quindi un'occasione anche per me di confronto su tematiche che avete già sviscerato rispetto al bilancio comunale. Brevissima introduzione, il bilancio del Comune si inserisce quindi all'interno di un ciclo di programmazione economico-finanziaria che ha a monte tutta una serie di documenti. Il primo documento sono le linee programmatiche e di mandato che il Sindaco presenta al Consiglio Comunale successivamente alla sua proclamazione in quanto il documento nel quale vengono declinati tutti quelli che erano le promesse elettorali. Dalle linee di mandato scaturisce il primo documento di programmazione economico-finanziaria che ammonte di tutti poi i documenti di bilancio successivi che è il documento unico di programmazione che è stato introdotto all'interno degli enti locali con la riforma dell'armonizzazione. È un documento importantissimo, in genere anche molto voluminoso, in alcuni comuni parliamo di 800-1000 pagine di documento che in realtà si colloca a monte della programmazione più prettamente finanziaria dell'ente locale in quanto dovrebbe a partire da un'analisi del contesto esterno e interno all'ente locale andare a definire quelli che sono obiettivi strategici e obiettivi operativi dell'amministrazione in un arco temporale che sugli obiettivi strategici abbraccia le cinque annualità e quindi tutta la durata del mandato del sindaco e dell'amministrazione e sulla parte operativa tre annualità. Quindi a partire dagli obiettivi strategici e operativi contenuti nel documento unico di programmazione dovrebbe scaturire il bilancio di previsione finanziaria. A differenza di prima dove avevamo il bilancio annuale e il bilancio pluriennale il bilancio di previsione finanziaria con l'armonizzazione è diventato un bilancio triennale quindi dura tre anni e la prima annualità si differenzia dalle altre due perché è un bilancio di previsione sia in termini di competenza cioè quelle che sono entrate e spese di competenza dell'annualità ma anche in termini di cassa cioè gli effettivi pagamenti e riscossioni che l'ente prevede di effettuare durante l'annualità di riferimento. Le altre due anni, quindi il primo anno è una previsione di competenza di cassa gli altri due anni è una previsione di competenza delle entrate e delle spese. Subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione che è di competenza del Consiglio Comunale così come il documento unico di programmazione deve essere approvato il piano esecutivo di gestione detto anche PEG nel quale quelle che sono le entrate e le spese del bilancio vengono ulteriormente declinate in ulteriori capitoli che quindi spacchettano il bilancio in più voci e quindi è il documento con il quale l'amministrazione quindi l'aggiunta affida gli obiettivi delle triennali ai dirigenti e alla struttura organizzativa quindi declina il bilancio in ulteriori capitoli e con il PEG vengono anche approvati quelli che sono obiettivi anche qualitativi che l'amministrazione si pone e che dovrebbero sempre trovare coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP quindi abbiamo detto DUP, bilancio piano esecutivo di gestione che declina tutte le entrate e le spese in ulteriori capitoli nel corso dell'anno il bilancio subisce varie variazioni in genere le variazioni di bilancio più importanti sono quelle collegate successive all'approvazione del rendiconto quindi il documento con cui si chiude l'annualità e quindi si fanno effettivamente si tienono le fila di ciò che sono state le entrate e le spese effettive in quanto dal rendiconto dovrebbe essere accertato l'importo dell'avanzo del bilancio che viene applicato durante l'anno di riferimento successivo a quello precedente e quindi in genere è il momento in cui il bilancio subisce la variazione più importante perché si liberano ulteriori risorse finanziarie che vengono poi inserite nel bilancio in corso d'anno quindi bilancio PEG e alla fine dell'anno approvazione del consultivo gli ultimi documenti più recenti introdotti in questo ciclo di programmazione sono il bilancio consolidato che è un bilancio nel quale vanno a confluire i risultati non solo dell'amministrazione ma di quello che viene definito il gruppo amministrazione quindi che dovrebbe comprendere i bilanci delle società partecipate degli enti strumentali dell'amministrazione e che viene approvato entro settembre e poi a questi documenti si aggiunge la relazione di inizio mandato del sindaco e la relazione di fine mandato del sindaco è una novità introdotta nel 2011 quando è stata fatta anche una riforma dei controlli interni alla pubblica amministrazione e diciamo è il momento in cui chi ha governato, ha concluso i cinque anni di governo fa un resoconto di quello che ha trovato e di quello che ha portato avanti nei cinque anni di governo e che rappresenta anche questo diciamo uno strumento importante di rendicontazione per chi chiude tutto il mandato dell'amministrazione stessa e che quindi può essere un ulteriore documento da confrontare con i vari bilanci e i documenti di programmazione che negli anni si sono susseguiti alcuni comuni poi si sono lanciati nella predisposizione di documenti di bilancio volontari come il bilancio di genere bilancio partecipativo quindi come strumento poi di coinvolgimento nella redazione del bilancio in genere io il consiglio che do nell'approcciare alla lettura del bilancio è quello di partire da un'analisi del rendiconto e del consultivo che spesso non ha come dire una centralità e una rilevanza nelle fasi di programmazione perché appunto il momento rilevante è l'approvazione del bilancio ma in realtà il bilancio nel corso dell'anno viene modificato tante volte considerate che ora con la nuova armonizzazione le variazioni di bilancio possono essere variazioni di consiglio variazioni di giunta ma anche variazioni che effettuano i dirigenti stessi quindi è oggetto di e anzi in genere la prima approvazione del bilancio che ha come dire un grande risalto mediatico in realtà forse è quella meno significativa nella misura in cui spesso il primo bilancio è si dice in genere un bilancio tecnico in quanto spesso non ci sono tutti gli elementi che consentono come dire di mettere nelle entrate tutte le risorse che possono poi finanziare le scelte politiche nella parte di spesa per cui ripeto spesso diventa politico solo dopo l'approvazione del rendiconto e quindi con l'approvazione dell'avanzo che consente quindi di recuperare risorse finanziarie aggiuntive e poi magari di declinare le scelte più politiche da parte dell'amministrazione quindi il suggerimento che io darei per approcciare ad un'analisi del bilancio è di partire dal consultivo quindi dal rendiconto perché nel rendiconto dove possiamo effettivamente come dire studiare e analizzare le entrate e le spese effettive di quell'anno e soprattutto è uno strumento molto prezioso perché mette a confronto l'ultima annualità che si è conclusa con tutte le annualità precedenti quindi ci dà un'idea di quello che è l'andamento delle entrate e delle spese nel tempo e magari quindi poi ci aiuta anche a leggere il bilancio in corso in corso di esercizio e ci aiuta a capire come il bilancio può modificarsi rispetto a quelle che sono le previsioni iniziali e rispetto a quello che è la chiusura definitiva del bilancio stesso dicevo a partire dal 2016 i bilanci sono stati completamente rivisti con la riforma dell'armonizzazione che ha introdotto questo principio della competenza finanziaria potenziata che detto in maniera molto semplice avvicina di più il bilancio dell'ente locale a un bilancio di cassa quindi dove le entrate e le spese sempre più quindi finanziarie sempre più sono vicine a quelli che sono gli effettivi riscossioni e pagamenti da parte dell'amministrazione allora come si caratterizza il bilancio quindi ripartiamo da quello della struttura del bilancio che poi come dire ripercorre la struttura del consuntivo con la differenza appunto che la struttura delle entrate delle spese del bilancio è una previsione la struttura delle entrate delle spese del consuntivo riprende quelle del bilancio di previsione ma ci dice quali sono entrate e spese effettive a conclusione dell'anno allora partiamo dalle entrate che è un tema che è stato spesso trascurato nella misura in cui le entrate erano come dire una faccenda dell'ufficio ragioneria in generale ragioneria che accertava le entrate e gli uffici poi concentravano la propria attenzione nella parte delle spese oggi invece è un tema molto più rilevante in quanto tutti gli uffici hanno la responsabilità di seguire e di accertare le proprie entrate in quanto ovviamente hanno una rilevanza importante perché è ciò che entra che mi consente di finanziare ciò che è iscritto nella spesa il bilancio del comune è un bilancio autorizzatorio cioè io posso spendere se è in entrato delle risorse che mi comprono quella spesa le entrate quindi si dividono la classificazione principale delle entrate del bilancio sono per titoli cioè la natura economica dell'entrata allora abbiamo le entrate del titolo primo che sono le entrate di natura tributaria contributiva e per equativa sono diciamo è la voce di entrata che negli ultimi anni è diventata la più rilevante a fronte della riduzione delle entrate derivanti dai trasferimenti dello Stato quindi parliamo delle entrate collegate alle imposte locali i mutari i tasi che rappresentano ovviamente le diciamo da un punto di vista del finanziamento delle spese correnti la parte più importante del bilancio in termini di entrata che hanno subito negli anni tantissime modifiche anche collegate a riforme e modifiche delle imposte locali che tra l'altro con la legge finanziaria 2020 subiranno ulteriori modifiche perché il legislatore ha deciso di accorpare l'Imu con la Tasi che di fatto poi avendo la solita base imponibile quindi la proprietà immobiliare la casa diventava solo una duplicazione di addempimenti quindi stiamo andando di nuovo verso una rimodifica di questi tributi locali e dove diciamo l'aspetto che rileva tantissimo è la capacità di riscossione di queste entrate perché una delle criticità che caratterizza i bilanci dei comuni è una diciamo non elevata capacità di riscossione anche di queste entrate per vari motivi quindi è e diciamo dove l'aspetto interessante da poter sviscerare su questa parte di bilancio riguarda come dire le aliquote collegate alle entrate tributarie perché è vero che le entrate tributarie degli antilocali sono entrate dove è il legislatore statale che di fatto come dire determina quasi la maggioranza dell'importo di queste tasse c'è uno studio del 2012 che dice che su 100 di imposta locale l'80 è stabilita dallo Stato la discrezionalità dell'ente locale varia da un 10 a un 20% quindi è una discrezionalità molto bassa e tra l'altro sembra almeno dalle prime cose lette su questa ulteriore riforma dei tributi locali che questa discrezionalità potrebbe ulteriormente ridursi però ecco la cosa l'attenzione su cui l'aspetto su cui volevo attirare la vostra attenzione è di questo tipo che la funzione che i tributi hanno anche a livello locale che è una funzione ovviamente acquisitiva acquisire risorse con cui finanziare le spese correnti è una funzione redistributiva quindi attraverso queste risorse redistribuire la ricchezza a livello locale quindi redistribuendola dai redditi più ricchi ai redditi più deboli e una funzione anche di promozione perché attraverso una declinazione delle aliquote c'è la possibilità di incentivare determinati comportamenti a livello locale ecco un suggerimento che vi darei alcuni comuni hanno fatto questo lavoro per esempio sul lato delle entrate tributarie sul sito di finanza www.finanza.gov trovate tutte le aliquote di tutti i comuni d'Italia quindi è possibile andare a fare un controllo quindi un confronto tra le aliquote applicate dal proprio comune e alle aliquote applicate da altri comuni ed eventualmente come dire elementi di differenziazione di premialità di redistribuzione che alcuni enti locali hanno attivato su questo tema e su questo aspetto per una maggiore giustizia fiscale locale il titolo quindi titolo primo dell'entrata è entrate tributarie e in questo sempre su questo titolo entra quindi viene scritto in bilancio il fondo di solidarietà comunale il fondo di solidarietà comunale cos'è? è un meccanismo perequativo che lo Stato ha introdotto per come dire andare a redistribuire le risorse derivanti dall'entrata di tributi locali tra comuni che hanno una capacità fiscale più elevata e comuni che hanno una capacità fiscale meno elevata perché ovviamente queste entrate sono strettamente collegate alla struttura diciamo immobiliare del proprio territorio quindi alcuni comuni praticamente si vedono rispetto alle entrate tributarie si vedono sottrarre una parte di queste risorse che vanno a finanziare il fondo di solidarietà comunale altri comuni invece hanno in questa parte del proprio bilancio un'entrata aggiuntiva che se c'è fondo di solidarietà comunale è la quota parte che gli spetta in funzione di una capacità fiscale inferiore rispetto a quelle che sono le proprie come dire necessità di finanziamento della spesa corrente anche collegate alle riduzioni che negli anni hanno subito nel titolo secondo che sono le entrate da trasferimenti correnti il titolo secondo sono entrate da trasferimenti correnti è la parte invece delle entrate che negli anni si è ridotta tantissimo sono le entrate che derivano dallo Stato e che sono collegate al finanziamento dei servizi pubblici locali fondamentalmente sono collegate a queste sono state ridotte a fronte di un ampliamento dei tributi locali quindi l'Imu insomma Tasi tutto quel pacchetto lì quindi non mi soffermo è la parte diciamo che si è ridotta negli ultimi anni di entrate si è ridotta molto titolo terzo entrate extra tributarie in questa parte del bilancio cosa entra? sono entrate collegate a l'erogazione di servizi pubblici locali quindi le rette delle menze dei nidi il trasporto pubblico locale si è introitato direttamente dal comune gli introiti derivanti dai parcheggi a pagamento gli utili che eventualmente le società partecipate generano e quindi distribuiscono all'ente locale le multe codice della strada e i canoni patrimoniali cioè tutte le entrate derivanti da canoni di affitto canoni di concessione di beni di proprietà o nella disponibilità del comune che sono affidati a soggetti terzi e i canoni derivanti da concessioni di servizi pubblici locali per esempio i canoni collegati al servizio distribuzzo del casmetano i canoni legati al servizio idrico integrato eccetera eccetera questi primi tre titoli quindi entrate tributarie entrate correnti e trasferimenti correnti entrate extra tributarie rappresentano le entrate correnti cioè tutte quelle entrate che indistintamente vanno a finanziare il titolo primo della spesa corrente sono entrate correnti proprio perché si caratterizzano per una ripetitività nel tempo cioè ogni anno abbiamo questa tipologia di entrate e che la loro come dire costanza ripetitività nel tempo garantisce le spese correnti che sono spese che ogni anno l'amministrazione deve sostenere quindi i primi tre titoli li abbiamo detti andiamo nella parte invece di entrate in conto capitale quindi titolo quarto qui dentro cosa entra in questa parte del bilancio entrano le entrate derivanti da contributi agli investimenti che possono essere date dallo Stato Unione Europea quindi contributi che sono legati al finanziamento di investimenti le entrate derivanti dalle alienazioni del patrimonio immobiliare quindi vendono immobili entrano in questa parte del bilancio e le entrate collegate al rilascio di concessioni permessi ad edificare quindi cosiddetti oneri di urbanizzazione che quindi sono collegati sempre all'effettuazione di investimenti quindi entrate in conto capitale titolo quarto questa per esempio è una parte se andate a vedere nei consultivi dei bilanci dei vostri comuni è una parte che ad inizio l'anno è molto corposa e invece a fine anno come dire subisce delle modifiche rilevanti perché è chiaro che se non vendo il patrimonio immobiliare in un incasso non ho entrate e quindi non posso finanziare la spesa di investimento è collegato agli oneri di urbanizzazione che anche qui a seconda negli ultimi anni era un'entrata molto rilevante e importante per gli enti ma ovviamente con la crisi del mercato immobiliare si è assottigliata anche questa parte di entrata quindi è una parte che in genere in fase di previsione è molto alta ed è la parte che tra l'altro va a finanziare il piano delle opere pubbliche quindi il piano degli investimenti e che poi quindi in genere a fine anno si riduce anche in maniera importante poi abbiamo titolo sesto entrate derivanti da accensione di prestiti che ovviamente anche questi sono collegati poi al finanziamento della spesa di investimento titolo sette anticipazioni da tesoriere e castiere in questa parte del bilancio vengono quindi accertate le entrate che sono collegate ad esigenze di liquidità cosa succede? che nel corso dell'anno il bilancio dell'ente in particolare la cassa potrebbe non avere la disponibilità liquida quindi le liquidità necessarie a pagare impegni e contratti in essere questo in genere è collegato soprattutto agli introiti derivanti appunto dai tributi locali perché l'IMU la TAS in genere sono pagamenti che il comune riceve a giugno mentre invece ci sono degli obblighi e dei pagamenti che l'amministrazione ha anche prima quindi quando c'è questo scollegamento tra liquidità e obblighi di pagamento il comune può attingere all'anticipazione di tesoreria che sostanzialmente è un prestito a brevissimo termine che si apre e si deve chiudere entro l'anno è che solo collegato a esigenze temporanee di cassa cioè ho un impegno devo fare un pagamento nelle casse dell'ente in questo momento non ho la disponibilità chiedo al tesoriere quindi che in genere che è la banca che gestisce la tesoreria comunale un'anticipazione quindi un prestito a brevissimo termine appena ho la liquidità lo restituisco quindi le anticipazioni servono semplicemente a come dire a far fronte ad esigenze di cassa nell'immediato anche questa devo dire che negli ultimi anni è stata una parte di entrata rilevante perché gli enti locali hanno avuto problemi di cassa importanti e quindi è una parte di entrata diciamo ci sono anche dei casi in cui soprattutto nella fase iniziale di approvazione del bilancio l'amministrazione per cautelarsi prevede un'anticipazione di un certo tipo potrebbe anche non essere attivato durante l'anno nel consuntivo è un'informazione che potete verificare e diciamo che in genere anche gli interessi collegati a questa tipologia di presso a breve termine sono molto bassi ovviamente dipende dal tipo di convenzione di contratto fatto col tesoriere l'ultima parte delle entrate che è il titolo 9 sono le entrate per conto terzi e partite di giro diciamo la parte meno non rilevante da un punto di vista dell'analisi del bilancio nella misura in cui entrano sono entrate per diciamo il classico esempio che faccio per descriverle le risorse che l'amministrazione trattiene sugli stipendi dei dipendenti per poi versare i contributi all'erario quindi sono risorse non dell'ente che poi vengono girate all'erario oppure depositi cauzionali che vengono presi perché collegati a dei contratti e poi restituiti alla controparte quindi questa è tutta la parte delle entrate del bilancio ora una cosa che mi sono dimenticata di dire se voi guardate il bilancio di previsione in cima a tutte queste entrate quindi ancora prima di partire con le entrate tributarie ci sono altri voci che vanno ad alimentare le entrate del bilancio e sono il fondo pluriannale vincolato di parte corrente e di parte conto capitale l'avanzo presunto il fondo di cassa cioè all'inizio quando il bilancio viene approvato una parte del bilancio è finanziata da risorse che provengono dalla gestione degli anni precedenti questo è il fondo pluriannale vincolato che è un meccanismo che è stato introdotto con l'armonizzazione e che ha questo tipo di significato cioè se io nel bilancio 2019 ho accertato delle entrate ho avuto per esempio un finanziamento per fare un'opera pubblica questa opera pubblica però non parte nel 2019 ma partirà nel 2020 o nel 2021 io però registro questa entrata perché il finanziamento l'ho ricevuto allora cosa quindi contabilmente registro un'entrata di 100 a questa entrata però non corrisponde una spesa perché non spendo questi soldi nel 2019 allora cosa faccio vado ad accantonare queste risorse che già sono entrate ma che spenderò in futuro in un fondo quindi che diventa un salvadanaio che va a finanziare il mio bilancio negli anni successivi ecco perché nelle entrate del bilancio trovate innanzitutto il fondo pluriennale vincolato perché sono risorse che provengono dalle annualità precedenti e che vanno a finanziare spese future quindi lo ritroviamo nella parte di spesa perché va accantonato lo ritroviamo nell'entrata del bilancio nuovo perché va a finanziare le spese magari di quell'annualità o di annualità successive quindi anche il fondo pluriennale vincolato che è di parte corrente laddove va a finanziare delle spese correnti o di parte in conto capitale se va a finanziare degli investimenti lo trovate nella parte delle entrate del bilancio e ha questo significato sono quindi risorse che provengono dal passato non sono risorse nuove che l'amministrazione acquisisce nell'anno di riferimento altra voce che va nelle entrate del bilancio è l'avanzo che nella fase di approvazione del bilancio è presunto perché non abbiamo ancora il consuntivo quindi richiede comunque un calcolo di un'analisi di quello che può essere l'avanzo presunto e che ovviamente non può essere comunque è messo nelle entrate ma non può essere speso finché non è effettivamente accertato in fase di consuntivo però va a alimentare il mio bilancio nelle parti entrate e poi il fondo di cassa che risulta il primo gennaio dell'anno di riferimento ok vado avanti poi ovviamente insomma se ci sono domande perché sono come dire cose molto tecniche però sono disponibili a chiarirle successivamente allora passiamo alla parte invece delle spese delle spese del bilancio il bilancio si divide in titolo primo quindi andiamo sempre in un'analisi per titoli che sono le spese correnti che come vi dicevo sono finanziate dai primi tre titoli delle entrate correnti perché sono le spese che annualmente l'amministrazione deve sostenere che sono collegate al funzionamento dell'ente quindi le spese correnti ci vanno tutti diciamo le spese collegate ai servizi gli stipendi del personale gli interessi passivi che pago quindi sui mutui i prestiti che ho acceso quindi tutte spese collegate l'acquisto ovviamente di beni e di servizi collegati ai servizi che eroga l'amministrazione o ai servizi che vengono esternalizzati i costi delle utenze i costi di affitto se presi in affitto dei beni eccetera eccetera quindi titolo primo spese correnti titolo secondo spese in conto capitale le spese in conto capitale sono le spese di investimento quindi quelle che sono manutenzioni straordinarie sugli immobili di proprietà dell'amministrazione o realizzazione di nuove opere pubbliche le spese in conto capitale ovviamente sono collegate come si diceva prima alle entrate del titolo quarto quindi entrate in conto capitale ma anche alle entrate derivanti da prestiti perché l'indebitamento quindi i prestiti possono essere accesi dall'ente locale esclusivamente per finanziare gli investimenti titolo terzo spese per incremento ma prima avevo saltato scusate il titolo quinto delle entrate che sono le entrate derivanti da riduzione di attività finanziarie che sono collegate al titolo terzo speso per incremento di attività finanziarie e allora le entrate per riduzione di attività finanziarie sono in genere collegate a vendita di titoli di partecipazioni quindi sono quindi riduzioni di attività finanziarie all'interno del bilancio dell'ente le spese per incremento invece diciamo il contrario è acquisto titoli acquisto azioni acquisto quote di partecipazione in società titolo quarto rimborso prestiti quindi come dicevo prima nel titolo quarto vanno solo le quote di capitale che l'amministrazione restituisce rispetto a prestiti che sta diciamo restituendo mentre gli interessi passivi collegati ai prestiti vanno nelle spese correnti quindi il titolo quarto è solo la quota capitale del rimborso dei prestiti titolo quinto chiusura delle anticipazioni ricevute dal tesoriere quindi è una cifra che deve essere corrispondente con l'anticipazione che ho preso in entrata e che abbiamo detto quindi è un diciamo deve chiudersi nel corso dell'anno perché è un prestito a brevissimo termine titolo settimo uscito per conto terzi quindi che è collegato al titolo nove e ovviamente quindi se ho delle trattenute dagli stipendi per versamenti all'erario quindi le uscite avrò le somme corrispondenti a questi versamenti così come depositi calzionali abbiamo praticamente scorso tutto quello che è il bilancio e diciamo le categorie del bilancio ora una lettura delle spese che diciamo alternativa a quella dei titoli che abbiamo fatto questa è una lettura delle spese per missioni e per programmi che è diciamo la nuova strutturazione delle spese con l'armonizzazione cioè le spese sono suddivise in missioni dove le missioni corrispondono agli obiettivi strategici e alle funzioni fondamentali dell'ente locale quindi troveremo le spese per l'istruzione le spese per l'assetto il territorio e l'ambiente le spese per i servizi istituzionali generali eccetera eccetera i programmi non sono altro che un aggregato diciamo delle categorie omogenee all'interno della missione per esempio ho preso la missione 4 che è istruzione quindi spese per l'istruzione si dividerà nei programmi istruzione prescolastica altri ordini di istruzione diritto all'estudio quindi è una ripartizione un'ulteriore ripartizione della macro categoria spese di istruzione altra diciamo tipologia di lettura delle spese sono i macro aggregati quindi all'interno del bilancio troverete il prospetto delle spese per missioni programmi e macro aggregati quindi della spesa corrente ma anche della spesa in conto capitale il macro aggregato è diciamo quella stessa spesa corrente ripartita tra redditi da lavoro dipendente interessi passivi acquisto di beni e servizi quindi tutta la spesa corrente che riguarda anche i servizi esternalizzati eccetera eccetera quindi è una come dire uno spacchettamento delle spese correnti in conto capitale che vi aiuta per esempio a capire rispetto per esempio alla missione istruzione quanto la spesa collegata all'istruzione sia una spesa che è collegata a personale e impiegato in quell'ambito di attività quanto sia spesa collegata a esternalizzazione di servizi quanto sia spesa collegata ad per esempio a trasferimenti alle famiglie quindi contributi che vengono dati alle famiglie per garantire il diritto allo studio quindi è una lettura delle spese correnti in conto capitale molto importante e rilevante perché vi aiuta a capire nella diciamo bussolone della singola missione istruzione o ambiente o servizi generali in che modo la spesa si declina in queste tipologie macrotipologie siamo già a mezz'ora io allora vado avanti ponendo in evidenza allora parliamo di equilibri che devono essere garantiti nel bilancio quindi sia in fase di previsione che in fase di consultivo sapete che con la modifica dell'articolo 81 della costituzione è stato inserito l'obbligo del pareggio di bilancio quindi una riformulazione dell'articolo 81 che ha trovato a sua volta declinazione nella legge 243 del 2012 che ha dato come dire declinazione del principio del pareggio di bilancio all'interno di una serie quindi di articoli che vanno a declinare il pareggio che in realtà il titolo e il pareggio poi di fatto quello che gli antilocali devono rispettare è una serie di equilibri di bilancio quindi una serie di formule e che poi con la legge 208 del 2015 è stato come dire accantonato il patto di stabilità la regola del patto di stabilità interno a favore della regola del pareggio e che quindi ha declinato in maniera diversa questi vincoli finanziari molto complessi diciamo che siamo passati da detto molto diciamo in parole molto semplici il patto di stabilità interno imponeva agli enti locali ogni anno il raggiungimento di un obiettivo finanziario ben specifico che era una differenza positiva tra determinate entrate e spese correnti e in conto capitale ed era un criterio misto tra competenza e cassa di fatto chiedeva alle amministrazioni di raggiungere un valore positivo tra entrate e spese quindi la differenza tra le entrate e le spese del bilancio doveva essere una differenza positiva che ogni anno lo Stato poi definiva per ogni singolo comune quindi ogni comune aveva il suo obiettivo di differenza positiva tra entrate e spese con il pareggio di bilancio il legislatore impone agli antilocali invece di raggiungere un saldo non negativo quindi che può essere anche pari a zero tra determinate entrate e spese che all'interno del bilancio degli enti locali si divide in tre equilibri cioè ci deve essere un equilibrio di parte corrente quindi un saldo non negativo tra le entrate correnti e le spese correnti un equilibrio di parte in conto capitale quindi un saldo non negativo tra entrate in conto capitale e spese in conto capitale e poi un equilibrio complessivo che è dato dalla somma dell'equilibrio di parte corrente e dell'equilibrio di parte in conto capitale ogni anno tra l'altro esce una circolare della ragioneria generale dello Stato che va a declinare ulteriormente questo principio nei confronti degli enti locali però qual è il problema che si dice vabbè si è passato da un salto positivo il patto di stabilità interno ad un saldo in pareggio quindi la situazione è migliorata a parte il fatto che le sanzioni collegate al mancato rispetto di questi equilibri e quindi equilibri che fanno azioni pesantissime che vanno a colpire l'ente nel suo complesso che quindi scattano tutta una serie di vincoli ulteriori sul bilancio dell'ente oltre a sanzioni nei confronti degli amministratori del ragioniere generale eccetera eccetera quindi anche dei dirigenti quindi è la regola più rispettata dagli enti locali questa degli equilibri ma diciamo il timore di non raggiungere l'obiettivo fa sì che in realtà i comuni continuano come dire a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica complessiva nazionale che poi sono quelli come dire che poi portiamo all'Europa quindi in realtà continuano ad avere risultati positivi quindi questa differenza tra entrate e spese e questo equilibrio che deve essere non negativo in realtà è sempre positivo perché ovviamente è complesso perché va garantito sia in fase di previsione che in fase di rendiconto ovviamente le amministrazioni per tutelarsi si danno un obiettivo un po' più come dire elevato e questo come dire va ad aggravare ulteriormente le risorse che vengono sottratte agli antilocali non solo quindi c'è questo aspetto che questo fenomeno che è conosciuto come overshooting cioè andare oltre l'obiettivo che lo Stato mi dà rispetto al mio bilancio ma l'armonizzazione ha introdotto una serie di ulteriori meccanismi e vincoli che vanno ulteriormente ad aggravare e quindi a come dire a rendere a sottrare risorse agli antilocali questi vincoli sono soprattutto collegati all'obbligo di costituire dei fondi all'interno del bilancio che si traducono in voci di spesa che di fatto non può essere come dire spesa quindi sono disponibilità finanziarie che vanno a confluire in fondi che l'amministrazione non può spendere parliamo in particolare del fondo crediti dubbi e esigibilità che trovate quindi nella parte della spesa del bilancio nella missione fondi e accantonamenti il fondo crediti dubbi e esigibilità nasce nell'intento di nel passaggio dalla vecchia contabilità degli antilocali all'armonizzazione si è cercato come dire di curare una patologia molto rilevante che caratterizzava tutti i bilanci e gli antilocali che era quella dell'accumularsi di residui attivi e passivi nel bilancio cosa sono i residui attivi e passivi che continuiamo a trovare nei bilanci degli antilocali sono i residui attivi sono entrate che sono state iscritte nel bilancio dell'ente ma che non sono state mai riscosse che però hanno finanziato della spesa quindi sono crediti di fatto che sono come dire iscritti nei bilanci e portati avanti negli anni dagli antilocali ma che non sono stati mai riscossi quindi effettivamente nelle casse del comune specularmente i residui passivi invece sono impegni di spesa che sono stati formalizzati nei bilanci ma che non sono stati a cui non è mai corrisposto un pagamento effettivo quindi parliamo di crediti e debiti che negli anni si sono accumulati tantissimo perché spesso le previsioni si facevano come dire in maniera non proprio precisa quindi si accertava e si scrivevano in bilancio più entrate che poi non c'erano in questo modo come dire si aumentava la capacità di spesa dell'ente a discapito però di chi veniva dopo perché poi ovviamente quindi sono entrate che poi successivamente devono essere recuperate quindi c'è stato questo accumulo di crediti e di debiti che con la nuova urbanizzazione si è cercato come dire di ridurre questo fenomeno perché vi dicevo prima adesso le entrate e le spese che possono essere scritte in bilancio devono essere molto vicine a quelle che effettivamente l'amministrazione conta di riscuotere o di spendere perché se a fine anno ci si rende conto che certe entrate non entreranno vanno cancellate non possono essere più conservate e quindi portate a danno nuovo come residuo e come credito stessa cosa per gli impegni di spesa se l'impegno il pagamento non avviene entro la fine dell'anno quell'impegno come dire va eliminato e la spesa va eliminata dal bilancio quindi con il fondo credi di dubbia esigibilità è uno strumento attraverso il quale oggi il legislatore dice agli enti locali ok avete una serie di crediti iscritti in bilancio che forse la cui esigibilità ormai è dubbia perché sono anni che non vengono riscossi con le risorse del bilancio di oggi dovete andare a coprire questo rischio di mancata esigibilità quindi andare a congelare nel bilancio quindi a sottrarre dal vostro bilancio delle risorse che devono andare come dire a recuperare questi crediti che non entreranno considerate che la prima volta che è stato inserito questo fondo che parliamo è stato inserito nel 2012 il governo Monti si chiamava fondo svalutazione crediti poi ha cambiato nome fondo crediti dubbia esigibilità diciamo l'importo di questo fondo doveva corrispondere ad una determinata percentuale di questi crediti che progressivamente negli anni è arrivata fino al 90 95% dal 2021 il 100% di questi crediti che l'amministrazione giudica di dubbia esigibilità dovranno essere coperti dal fondo quindi un fondo che come dire nel tempo ha pesato sempre di più nei bilanci degli enti locali e rappresenta una voce di spesa che l'amministrazione deve sottrarre alle proprie spese in quanto copre questo rischio altro fondo che è entrato nei bilanci degli enti locali è il fondo collegato alle perdite delle società partecipate se ci sono società partecipate dal comune che hanno delle perdite il comune ha l'obbligo di scrivere nel proprio bilancio un fondo che diciamo il cui importo è collegato alla perdita che ovviamente deve essere in funzione della percentuale di partecipazione del comune fino a quando la società non ripiana quella perdita altro fondo il fondo per passività potenziale se ci sono dei contenziosi delle sentenze in cui il comune rischia di essere condannato il comune ha l'obbligo quindi di fare una valutazione ogni anno di questi contenziosi di quantificare il rischio che l'amministrazione corre in relazione a quei contenziosi quindi andare a congelare risorse in questo fondo e quindi non spendere quelle risorse considerate che dal 2020 doveva essere inserito anche un nuovo fondo il fondo per i ritardi nei pagamenti che poi diciamo è stato rimandato al 2021 ma questo per dirvi che siamo passati al pareggio quindi in teoria rispetto al patto di stabilità che imponeva un avanzo l'obbligo sembra essersi attenuato in realtà se andiamo a leggere l'obbligo degli equilibri e quindi del pareggio insieme ad ulteriori obblighi e ulteriori vincoli inseriti nel bilancio in realtà come dire la situazione non è migliorata negli enti locali vi dicevo quindi io esaurita diciamo questa parte del bilancio ritorno al consuntivo perché l'analisi del consuntivo è importante per valutare tutta una serie di indicatori che trovate nel rendiconto un indicatore importante è il risultato di amministrazione si diceva prima dell'avanzo che può essere applicato al bilancio in corso di esercizio a seguito dell'approvazione del consultivo il risultato di amministrazione cos'è? è un indicatore che viene costruito a partire da il fondo di cassa che c'è a fine anno quindi una volta chiuso il bilancio i residui attivi quindi tutti i crediti che risultano iscritti in bilancio meno i residui passivi meno il fondo pluriannale vincolato che abbiamo detto si tratta di risorse che ci sono ma che non possiamo considerare ai fini dell'avanzo perché devono andare a finanziare spese future quindi dal calcolo di questi elementi abbiamo un risultato di amministrazione che ovviamente se è positivo è un indicatore positivo nel senso che significa che tutte le risorse le entrate quindi del bilancio sono state sufficienti a coprire tutti gli impegni e le spese però non basta nel senso che il risultato di amministrazione non è tutto ciò che l'amministrazione poi ha a disposizione per finanziare il bilancio in corso il risultato di amministrazione si compone di quattro elementi importanti che sono la parte del bilancio che deve essere accantonata parlavamo prima di tutti i fondi quindi innanzitutto se c'è un risultato positivo il risultato deve andare come dire a coprire tutti i fondi che l'amministrazione è obbligata a costituire quindi il fondo credi e dubbi esigibilità il fondo società partecipata eccetera eccetera quindi una parte del risultato deve essere accantonata e quindi non può essere come dire messa a disposizione l'amministrazione perché va nei fondi e negli accantonamenti la parte vincolata del risultato che è collegata ovviamente a degli impegni con dei vincoli e che quindi è vincolata a determinate spese e non è libera e va destinata a coprire determinate spese la parte degli investimenti è la parte del risultato che in genere è collegata a entrate in conto capitale che si sono liberate che quindi non possono essere destinate a tutto ma vanno destinate a ulteriori investimenti e poi finalmente la parte del risultato che è libero quindi il famoso avanzo libero sono quelle le disponibilità finanziarie che l'amministrazione quindi può rimettere in gioco nel bilancio in corso fermo restando che anche sull'avanzo libero il legislatore ci dà tutta una serie di priorità cioè l'avanzo libero innanzitutto deve andare a chiudere debiti insomma ci sono tutta una serie di priorità quindi in realtà se un tempo il momento diciamo del consultivo il risultato di amministrazione era un momento esaltante perché c'erano nuove risorse da mettere a disposizione nel bilancio in realtà una buona parte del risultato di amministrazione è già come dire blindata vincolata o va accantonata sulla base appunto delle regole stabilite dall'armonizzazione tra l'altro la lettura del risultato di amministrazione va vista anche tenendo conto di questo che se il risultato di amministrazione è molto alto cioè se è positivo è un buon segnale ma se è troppo positivo può denotare anche una scarsa capacità dell'amministrazione di spendere quindi è un indicatore che poi all'interno del consultivo va letto e va valutato tenendo conto anche di questo aspetto un altro elemento quindi rilevante che trovate sempre nel consultivo e da analizzare riguarda la gestione della cassa quindi in cassa e pagamenti si diceva anche un po' prima un conto è le previsioni di entrate e di spesa un conto è quanto effettivamente l'amministrazione riesce a riscuotere e quanto riesce a spendere quindi a pagare quindi trovate tutta una serie di indicatori collegati alla capacità di riscossione e alla capacità di pagamento anche questi sono indicatori molto importanti per capire lo stato di salute dell'ente ritorno alle anticipazioni di tesoreria se l'anticipazione di tesoreria è rilevante l'importo dell'anticipazione rilevante significa che ci sono problemi di liquidità e di cassa importanti che vanno analizzati e affrontati tra l'altro la lettura sia il bilancio che il rendiconto soprattutto il rendiconto hanno un prospetto prettamente contabile ma anche dei documenti che più facilmente possono consentirvi di leggere e analizzare questi dati e mi riferisco alla relazione dell'aggiunta al rendiconto quindi quando andate a reperire i documenti di bilancio che dovete trovare nell'amministrazione trasparente sezione bilanci è importante che l'ente quindi non solo pubblichi il consultivo parte diciamo contabile il prospetto contabile del consultivo ma che sia anche pubblicata la relazione dell'aggiunta al consultivo e la relazione dei revisori dei conti al consultivo che sono due strumenti importantissimi e fondamentali per leggere e leggere i dati di bilancio e dai quali quindi anche più facilmente potete eventualmente intercettare elementi di criticità altro elemento che voglio mettervi in evidenza è l'obbligo che in capo ai comuni di predisporre il rendiconto semplificato per il cittadino oltre quindi al rendiconto predisposto in base a tutte le normative insomma come l'armonizzazione prescrive gli enti locali quindi i comuni hanno l'obbligo di predisporre anche un rendiconto semplificato quindi un documento attraverso il quale rendere accessibile a tutti i cittadini questi documenti molto molto complessi e molto voluminosi ci sono comuni che su questo come dire hanno fatto uno sforzo importante altri mi sembra insomma che siano rendiconti eccessivamente semplificati rispetto a quello che invece è importante che i cittadini sappiano del bilancio dell'ente io mi fermerei qui e magari vi chiederei se avete diciamo aspetti su cui avete esigenza di soffermarvi di più è già stata una come dire una presentazione molto corposa se ci sono intanto delle domande o degli aspetti su cui volete approfondire allora ho provato a sintetizzare le domande poi se mi è sfuggito qualcosa ovviamente mi richiedete perché erano diverse allora partiamo la prima domanda era la differenza tra la competenza e la cassa nel bilancio e quindi cosa conviene laddove si vada su open bilancio a fare dei riscontri e dei confronti sulle entrate e spese del comune cosa conviene come dire analizzare allora io per farvi capire vi faccio un esempio molto pratico per capire la differenza tra le entrate di incompetenza o le spese di competenza e quelle di cassa facciamo un esempio degli stipendi del personale nella competenza di ogni anno io ovviamente devo andare a registrare entrate e spese di competenza di quell'annualità che quindi devono essere imputate in quell'anno perché fanno riferimento a quell'anno gli stipendi del personale sono un esempio quindi devo fare una stima del costo del personale di competenza non è detto però che quella spesa del personale io la vada proprio a effettivamente a spendere in quell'annualità perché per esempio la parte della produttività del personale viene erogata a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi delle performance eccetera eccetera quindi io in competenza avrò che ai dipendenti nell'annualità 2019 il costo del personale è 100 nella cassa nella stessa annualità probabilmente io avrò una spesa pari a 80 perché 20 che è di competenza lo andrò a pagare effettivamente l'anno successivo quindi io ritengo che nel fare un'analisi del bilancio e del consuntivo sia importante fare un'analisi che vada a vedere la competenza quindi con la cassa potremmo perderci dei dati che comunque sono collegati solo agli effettivi pagamenti o alle effettive riscossioni la competenza invece ci dà come dire una visuale più ampia del bilancio e dell'annualità che andiamo ad indagare seconda gli interessi passivi come vi dicevo prima la spesa corrente può essere quindi si articola in programmi e missioni ma possiamo anche analizzarla per macro categorie gli interessi passivi li trovate quindi nella spesa corrente e nella macro categoria interessi passivi quindi dovrebbe essere una voce che diciamo nel consuntivo dovresti trovare nel prospetto in cui sono incrociate le missioni e i programmi con i macro aggregati è una tabellina che in genere è in fondo cioè una volta che scorrete tutta la parte del consuntivo legata ai titoli quindi in genere il consuntivo articolato nella prima parte tutte le entrate nella seconda parte tutte le spese e poi ci sono dei riepiloghi riepiloghi per titoli delle entrate e delle spese riepiloghi delle spese per missioni e macro aggregati in quel riepilogo dovreste trovare la spesa diciamo corrente suddivisa tra stipendi del personale acquisti di beni e servizi interessi passivi quindi lì trovate l'importo degli interessi passivi che ogni anno l'amministrazione ha corrisposto e che sono collegati a debiti e prestiti in corso di ammortamento quindi macro aggregato interessi passivi il riepilogo della spesa corrente per missioni programmi e macro aggregati che la trovate nella parte diciamo più in fondo del bilancio e del consuntivo allora la problematica della trasparenza e della discussione del bilancio nei consigli comunali è assolutamente come dire diffusissima io in tutti gli incontri che ho fatto in giro per l'Italia e i consiglieri comunali che ho incontrato mi hanno rappresentato questa problematica ma una problematica che vivo anche nell'ente dove lavoro alcuni hanno fatto delle proposte di modifica del regolamento di bilancio perché in genere la tempistica quindi i tempi di presentazione della documentazione ai consiglieri rispetto al giorno in cui la discussione del bilancio avviene è disciplinata nel regolamento quindi alcuni consiglieri hanno provato a proporre una modifica del regolamento indicando dei tempi un po' più favorevoli ai consiglieri che devono leggere questa documentazione perché è veramente tanta non è possibile consegnare migliaia di pagine due giorni prima che il bilancio venga discusso è chiaro che poi diventa un documento come dire incomprensibile e inaccessibile quindi si potrebbe fare una proposta di modifica del regolamento e come rendere più semplice il bilancio per i cittadini e mi ricollego anche un po' alla prima domanda cioè in realtà c'è una complessità di questo bilancio che purtroppo quindi la riforma ha un po' tradito nel senso che la riforma dei bilanci è recentissima l'errore che è stato fatto è di continuare a mantenere una contabilità finanziaria che c'ha solo l'Italia nella pubblica amministrazione piuttosto che passare direttamente ad un bilancio di cassa che sarebbe stato semplicissimo quanto si riscuote quanto si spende invece abbiamo mantenuto una contabilità completamente anacronistica quindi finanziaria in cui poi entrano in gioco tutti questi meccanismi il fondo pluriannale vincolato e tutta una serie di regole che vi garantisco sono complesse anche per gli uffici che le devono gestire quindi immaginiamo per i cittadini che le dovrebbero comprendere detto questo però io credo che uno sforzo da parte delle amministrazioni uno sforzo maggiore vada fatto cioè il bilancio può essere reso più semplice con schemi facendo magari degli appuntamenti fissi durante l'anno cioè quando il bilancio si approva si fa un'assemblea e lo si spiega quando il consuntivo si approva si fa un'assemblea e lo si spiega c'è già l'obbligo del rendiconto semplificato facciamolo bene attraverso quello strumento potremmo aiutare i cittadini a leggerlo e a renderlo più semplice poi ecco ci vorrebbe una riforma che rivedesse tutto cioè che finalmente come dire mettesse nel cassetto la contabilità finanziaria e si passasse ad un sistema di bilancio appunto si diceva quello delle aziende molto semplice lo potremmo semplificare per i cittadini ma anche per chi lo deve gestire perché vi garantisco che il passaggio all'armonizzazione è stato faticosissimo complicatissimo e lo è oggi anche per noi tecnici gestire questi questi strumenti e tutto è così farraginoso per cui spesso anche questa come dire incapacità a spendere è collegata ad una difficoltà di queste norme di queste regole che ogni anno cambiano e quindi insomma è molto complicato allora l'accensione dei mutui per quanto riguarda l'indebitamento da parte degli enti locali ora io non sono aggiornatissima su quelle che sono le percentuali però allora i vincoli sono di due tipi c'è un vincolo che all'indebitamento che è collegato alla situazione specifica di bilancio dell'ente e in genere è una percentuale quindi la quota degli interessi passivi non può superare una determinata percentuale delle entrate correnti dell'ente era una diciamo una percentuale che si era ridotta tantissimo poi negli ultimi anni è stata rialzata questo magari posso fare una ricerca specifica perché vi darei un dato su cui in questo momento non sono aggiornata però c'è un vincolo quindi che è legato alla situazione di bilancio specifica dell'ente e poi c'è un vincolo l'indebitamento è collegato comunque al pareggio di bilancio e all'equilibrio a livello regionale nel senso che se andate a vedere la legge 243 del 2012 l'articolo 9 parla dell'equilibrio di bilancio quindi la differenza tra entrate finali e spese finali il saldo non negativo ma a questo vincolo è collegato anche questo vincolo è collegato alla sostenibilità dell'indebitamento in generale della pubblica amministrazione l'articolo 10 parla di possibilità per gli enti di indebitarsi a fronti di intese che vanno trovate a livello regionale vi invito a leggere tra l'altro la recente circolare la numero 5 del marzo 2020 della ragioneria generale che su questo fa un focus anche richiamando la sentenza della corte costituzionale del 2017 dove se in cui si parlava dell'avanzo può essere messo ai fini del calcolo del pareggio avanzo e fondo plurinare vincolato tutto questo dibattito la ragioneria generale dello stato in questa circolare 5 del 2020 ripercorre le decisioni della corte costituzionale e mette in evidenza come in capo ai singoli enti quindi i singoli enti hanno un obiettivo che è il proprio quindi gli equilibri collegati al proprio bilancio e poi gli equilibri che sono collegati all'articolo 9 della 243 quindi l'equilibrio della pubblica amministrazione del suo complesso e mette in evidenza come agli equilibri sia strettamente correlato anche la capacità di indebitamento e dice l'indebitamento del singolo ente oltre a essere legata appunto a dei parametri specifici dell'ente alla sua capacità alle entrate correnti la sua capacità di indebitarsi deve essere valutata a livello regionale la ragioneria dice finora noi abbiamo fatto delle analisi su la differenza tra entrate e spese finali a livello regionale e non sono mai emersi problemi rispetto quindi a questa differenza cioè le differenze rilevate dalla ragioneria regionale finora sono state positive per cui non è stata messa in discussione la capacità di indebitamento degli enti collegata al mancato raggiungimento dell'equilibrio a livello regionale però in teoria c'è anche questo vincolo e la ragioneria in questa circolare dice attenzione finora dai nostri controlli dai bilanci che ci avete comunicato a livello regionale non ci sono stati sforamenti rispetto a questo vincolo ma laddove ci fossero questo pregiudica la capacità di indebitamento anche degli enti che afferiscono quella regione quindi in realtà sono due vincoli di indebitamento del singolo ente quindi ripeto una percentuale degli interessi passivi non può superare una percentuale delle entrate correnti perché gli interessi passivi devono essere coperti dalle entrate correnti quindi ci deve essere questo equilibrio ma c'è anche una capacità che è collegata agli equilibri a livello regionale quindi in teoria laddove ci fosse una differenza non positiva tra entrate finale e spese finali a livello di regione ci deve essere anche aprirsi anche una trattativa a livello regionale Allora il bilancio semplificato per i piccoli comuni io non credo che ci sia una come dire una cioè credo che ci sia l'obbligo anche per i piccoli comuni non mi risulta che come dire per i piccoli comuni ci sono semplificazioni nella predisposizione del documento unico di programmazione quello sì però non mi risulta che siano esonerati da quest'obbligo quindi e comunque al di là dell'obbligo cioè secondo me è uno strumento che non si può non dare rispetto ad un sistema di bilancio così complesso articolato quindi a me personalmente non risulta che i piccoli comuni siano esonerati dall'obbligo di predisporre il rendiconto semplificato per i cittadini poi i tempi di approvazione del bilancio e del consuntivo la legge prevede che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31-12 dell'anno precedente quindi questa è la regola generale e il piano esecutivo di gestione quindi che va ad articolare a declinare i capitoli di bilancio in ulteriori capitoli deve essere approvato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio questo è un termine che purtroppo sistematicamente da anni poi il legislatore nazionale consente di derogare però ci vuole la legge dello Stato perché ovviamente a volte lo Stato non è in grado di fornire gli elementi ai comuni per chiudere i propri bilanci per chi non definisce alcuni aspetti collegati alle entrate però la regola sarebbe il bilancio di previsione entro il 31-12 dell'anno successivo quindi il bilancio 2020 deve essere approvato entro il 31-12 del 2019 il consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo quindi quest'anno entro il 30 aprile che è slittato a causa della pandemia al 30 giugno gli enti locali devono approvare il consuntivo quindi la regola è il 30 aprile il consuntivo e il 31-12 il bilancio di previsione entro settembre vanno approvati gli equilibri di bilancio che è anche questo momento importante in cui l'amministrazione deve fare il punto su entrate e spese e verificare che gli equilibri che deve rispettare in fase di previsione e che deve garantire a consuntivo non ci siano come dire non siano intervenuti i fatti gestionali che abbiano messo in crisi gli equilibri di parte corrente e di parte in conto capitale entro il 31 luglio va approvato il documento unico di programmazione per l'anno successivo quindi con una come dire un anticipo eccessivo che quindi ha determinato poi la necessità a novembre di approvare anche la nota di aggiornamento al DUP perché va bene che dobbiamo programmare prima ma come dire chiedere agli enti di approvare il documento unico entro luglio per l'anno successivo quando ancora non hanno fatto gli equilibri di bilancio dell'anno in corso è stata una pretesa un po' eccessiva che infatti ha comportato un addempimento aggiuntivo quindi faccio il DUP entro luglio e poi a novembre devo fare la nota di aggiornamento al DUP che mi consente poi di approvare il bilancio entro fine anno quindi vedete come un sistema complesso faragginoso pesante con un sacco di passaggi che potevano essere evitati con una come dire con una progettazione di tutto questo sistema diversa ecco quindi questo è un po' i tempi poi se si toglie il pareggio si può come dire stimolare una spesa come dire cioè secondo me il problema non è che se c'è il pareggio cioè il pareggio non è uno strumento che può garantire la legittimità la lecidità del comportamento all'interno di pubblico e amministrazioni cioè ci sono come dire amministrazioni virtuose cioè non è il pareggio che determina come dire la virtuosità degli enti locali secondo me è un sistema di norme regole chiare semplici efficaci e tutto questo sistema farraginoso che come dire crea disastri e disagi notevoli non credo che togliere il pareggio implichi il fatto che si spenda e si spanda in tutti i modi anche perché c'è una responsabilità dirigenziale cioè e come dire se facciamo un sistema secondo me di bilancio più chiaro più semplice più accessibile sono questi forse strumenti che scoraggiano comportamenti non corretti o fraudolenti piuttosto che una regola come dire che va va oltre quelli che sono le garanzie di diritti cioè ci sono delle situazioni nel quali violare il pareggio significa garantire dei diritti far fronte a delle urgenze e delle emergenze che non possono essere subordinate al rispetto di vincoli contabili e finanziari e non è il venir meno del pareggio che possa come dire migliorare o meno la liceità dei comportamenti o prima non c'era il pareggio e c'erano altri meccanismi con i quali in maniera fraudolenta si gestivano i bilanci quindi il pareggio come dire io dico di più non è sufficiente togliere quello cioè secondo me va proprio come dire rivisto tutto il sistema dei vincoli della gestione del bilancio sono molto sintetica però le domande sono tante poi allora per quanto riguarda mi chiedevate che avevate fatto una richiesta di via PEC di una serie di cose eccetera allora brevemente sul discorso della trasparenza e dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato voglio spendere tre parole allora con il decreto legislativo 33 del 2013 che è un decreto attuativo rispetto alla legge anticorruzione del 2012 la legge 190 è stato completamente riformato il concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione tra l'altro è stato riformato con questo decreto e poi rivisto anche nel 2016 con una revisione del decreto stesso che ha comportato una vera e propria rivoluzione sul tema della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni perché mentre prima la trasparenza viaggiava attraverso la legge 241 quindi l'accesso documentale per cui potevi accedere agli atti della pubblica amministrazione se avevi un legittimo interesse comprovato eccetera eccetera con il decreto legislativo 33 sono stati introdotti due istituti legati alla trasparenza l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato l'accesso civico cos'è? l'accesso civico è l'obbligo che le pubbliche amministrazioni hanno di pubblicare in una sezione determinata del proprio sito chiamata amministrazione trasparenza di una serie di date di informazioni quindi l'accesso civico è devi pubblicare queste cose sul tuo sito se un comune non pubblica ciò che deve pubblicare un qualsiasi cittadino può denunciare la cosa al responsabile anticorruzione del comune perché il responsabile anticorruzione è anche responsabile della trasparenza del comune e l'amministrazione non è che risponde a quel singolo cittadino la risposta dell'amministrazione è ok provvede a pubblicare ciò che non ho pubblicato finora questo è l'accesso civico a questo istituto si affianca l'accesso civico generalizzato cosa vuol dire? nel decreto legislativo è stato affermato il principio che la trasparenza deve essere per tutti e non è necessario come dire avere delle motivazioni o un interesse specifico per chiedere una serie di documenti a che cosa si può accedere e qual è lo scopo dell'accesso civico generalizzato? quello di consentire ai cittadini e a tutti gli stakeholder di riferimento di esercitare un controllo diffuso sull'attività della pubblica amministrazione quindi io con l'accesso civico non posso chiedere un atto o un provvedimento specifico di una persona perché mi interessa sapere no ma se chiedo degli atti dei documenti correlati all'attività della pubblica amministrazione in generale perché voglio come dire esercitare un controllo diffuso sull'attività del mio comune lo posso fare lo chiedo e mi devono rispondere in genere i comuni predispongono un regolamento sull'accesso civico generalizzato e devono anche come dire quindi pubblicizzare i tempi entro cui vi devono rispondere per cui se rientrate e quindi io vi suggerisco una cosa quando fate richieste di accesso fatele ai sensi dell'accesso civico generalizzato quindi ai sensi del decreto legislativo 33 perché a quel punto come dire date già un segnale io chiedo accesso a questi documenti perché voglio esercitare un controllo diffuso sull'attività della pubblica amministrazione questo come dire vi consente di accedere praticamente a tutto ciò a cui non si può accedere ovviamente sono documenti che sono collegati alla tutela della privacy però ecco se ci sono dei dati della privacy allora chiedo di accedere senza avere il dettaglio di alcuni dati però ho diritto di accedere quindi la risposta in alcuni casi non può essere non te lo do perché c'è la privacy no cioè se alcuni io mi come dire elimini dati sensibili a cui non posso accedere ma il resto me lo dai quindi la risposta può essere anche una risposta parziale ma va data quindi se non ci sono elementi come dire ostativi c'è un accesso generalizzato a tutti i documenti della pubblica amministrazione quindi rivendicate questa richiesta e magari ecco citando il decreto legislativo 33 accesso civico generalizzato date forza alla vostra richiesta perché dimostrate tra l'altro di essere consapevoli di avere questi diritti e di poter accedere a determinate informazioni quindi non fate un accesso ai sensi della 241 fate un accesso ai sensi del decreto legislativo 33 del 2013 accesso civico generalizzato dichiarando di voler esercitare un controllo diffuso sull'attività del vostro comune poi dove si trovano questi documenti ripeto sul sito del vostro comune c'è amministrazione trasparente dentro questa sezione ci sono tutte le tematiche quindi c'è la sezione sui bilanci c'è la sezione sulla gestione del patrimonio immobiliare per esempio che è un'altra sezione da indagare da verificare c'è la sezione sulle società partecipate dove dovete trovare tutte le informazioni relative alle società partecipate controllate collegate dove ci devono essere i bilanci delle società partecipate quindi tutta una serie il rendiconto semplificato c'è tutta la parte sulle consulenze insomma trovate tantissimo tutta la parte delle sovvenzioni dei contributi erogati quindi a soggetti privati quindi in realtà ci sarebbe una vastità di materiale enorme e quella sezione è accesso civico se vi rendete conto che non hanno provveduto a pubblicare qualcosa avete tutto il diritto di segnalarlo e l'amministrazione deve rispondere pubblicando sul sito il documento che non è stato pubblicato finora poi allora per quanto riguarda la domanda sulla esternalizzazione della riscossione io vi posso dire che l'attività diciamo i comuni che sono come dire più efficaci nella lotta all'evasione nell'attività di riscossione sono i comuni che questa attività la gestiscono internamente l'esternalizzazione io mi sono anche confrontata con vari responsabili di uffici tributi con la collega del mio ufficio in realtà è un'attività che richiederebbe competenze interne specialistiche quindi una volontà politica forte che quindi decide di investire in risorse umane informazioni strumenti in convenzioni con altri enti autorità per condividere le banche dati perché fai come dire riesci a combattere l'evasione se riesci a incrociare tutta una serie di dati informazioni quindi si tratta di mettere in campo tutta una serie di risorse umane strumentali e convenzionali con altri enti e autorità per fare un'attività che sia come dire costante e continua tra l'altro sul tema delle entrate tributarie quindi il titolo primo c'è anche la voce delle entrate da evasione tributaria che è una voce spesso un po' ambigua nel senso che molti enti tendono ad accertare in quella voce in quell'entrata del bilancio anche condoni sanzioni ma sono come dire entrate da evasione che non sono strutturali e che non consentono poi strutturalmente di ampliare la capacità di spesa dell'ente anche questo è un tema molto come dire che sarebbe da sviscerare ampliare però ecco il riscontro che ho avuto io in questo ambito è che se l'attività di riscossione è interna quindi non viene esternalizzata l'attività anche di diciamo di lotta all'evasione più efficace io spero di aver risposto a tutto anche un po' mi dispiace che sono stata molto come dire forse banale e molto sintetica Simona scusa perché allora prima di lasciarti ai meritati arancini c'era anche se esiste ancora la legge che consente ai comuni di avere una percentuale degli introiti sugli accertamenti di evasione dei tributi esiste ancora confermo e poi nonostante questo incentivo poi se come dire non si investe in risorse e in competenze con difficoltà si riesce ad attivare quest'opzione però c'è e poi continua a rimandare gli arancini Fiorella e Cinzia di Attac Chianti domandano se un comune sta usando l'avanzo di bilancio significa che ha sospeso il patto di stabilità o sta usando altri meccanismi No allora questa domanda è un po' allora come dicevo prima l'avanzo allora il risultato di amministrazione ha quelle componenti quindi può essere quindi siamo a consuntivo c'è un risultato di amministrazione c'è una parte che va accantonata c'è una parte che va vincolata c'è una parte che è destinata agli investimenti e poi c'è l'avanzo libero se un comune in questo momento sta usando l'avanzo quindi immagino che sia l'avanzo libero è perché può essere in due casi uno ha approvato il consuntivo prima del 30 giugno perché anche se il legislatore ha dato la possibilità di rimandare l'approvazione il consuntivo al 30 giugno non è detto che qualche comune l'abbia già fatto e quindi se usa l'avanzo significa che sta come dire ha approvato il consuntivo e quindi ha applicato l'avanzo nel suo bilancio quindi non come dire non c'è questa cioè non è che sia uso l'avanzo non ho capita molto bene la domanda comunque rispondo così quindi può essere in questa situazione oppure nell'ambito dell'emergenza covid il DL Cura Italia ha previsto la possibilità di applicare di utilizzare l'avanzo anche se il consuntivo non è stato ancora approvato se la giunta ha approvato lo schema di consuntivo e c'è già il parere favorevole dei revisori dei conti allo schema però non c'è come dire l'avanzo entra negli equilibri di bilancio perché ovviamente fa parte delle risorse di cui l'amministrazione dispose quindi non è che l'utilizzo dell'avanzo implica aver violato il pareggio no l'utilizzo dell'avanzo è collegato all'approvazione del rendiconto quindi lo posso usare se ho approvato il rendiconto oppure ripeto il DL Cura Italia vista l'emergenza per svincolare risorse ovviamente collegate alla gestione dell'emergenza ha previsto questa deroga quindi lo si può usare prima anche se non si è ancora approvato il consultivo a patto che la giunta ha approvato lo schema e che i revisioni hanno già dato il parere se non sbaglio inoltre sempre nell'ambito dell'emergenza Covid è stato previsto la possibilità di usare una parte dell'avanzo vincolato quindi anche quello vincolato che in teoria è vincolato a determinate spese ma se diciamo se sussistono determinate condizioni in questa fase di emergenza i comuni possono usare anche una parte dell'avanzo vincolato però non c'è violazione del pareggio del pareggio Grazie a tutti